Sto scappando! Fermati! Fermati, straccione! Spostati! È sul tetto! Ti sei imbattuto in un'opportunità? Posso renderti ricco. Ricco abbastanza da impressionare una principessa. Cosa dovrei fare? C'è una caverna delle meraviglie. Portami la lampa! Oh, grande! Tu che mi hai convocato, presto giuramento di lealtà, hai tre desideri. Ok, sto scherzando. Sta a guardare! Tu ora hai... Un amico grande come... Mene! Ehi, puoi rendermi un principe? Non sei molto chiaro in... Rendimi un principe. Riguoi? Un principe? Oh, no! Dov'è il mio palazzo? Sembro un principe... All'esterno. Ma non ho cambiato nulla. All'interno. È il momento? No, sono io il capo. Ok? Lo dico io quando... Davvero? Pensavo che una principessa andasse buono. Non questa principessa. Ti fidi di me. Ehi, puoi rendere il mio palazzo.